ok allora vogliamo iniziare lo presento io l'ospite di oggi è il professor Marco Bramanti che è il professor ordinario di analisi presso il nostro dipartimento appogliati di Milano si occupa come campi di cerchio analisi reale e equazioni differenziali di date parziali quindi si capisce come abbia proposto un argomento che è legato ai nostri primi approcci quando studiamo l'equazione di date parziali ma è anche molto interessato alla terza missione al sviluppo di tecnologie innovative in didattica e è una delle colonne infatti del dipartimento di matematica mi taccio ti do la parola Marco grazie grazie della colonna grazie a Giulio Magli e Anna Paganoni per l'invito a tenere questo seminario e naturalmente tutti voi per la presenza per l'attenzione allora l'argomento di questa di questo seminario è un oggetto matematico estremamente specifico la delta di Dirac e questa è una scelta un po' insolita per un seminario divulgativo dove di solito si scelgono così temi più ampi in qualche modo ma ho voluto proporre questo argomento perché mi sembra che permetta di raccontare in qualche modo una storia esemplare esemplificativa del rapporto da una parte tra matematica teorica e applicazioni tra teorici e applicati e d'altro canto anche tra intuizione e rigore matematico perché la delta per così cominciare a dire in poche frasi quello che poi svilupperò è un oggetto di cui in qualche misura si parla ormai da 200 anni anche se è legato al nome di Dirac dal 1930 però diciamo che fino alla metà del del novecento nessuno era in grado di darne una definizione che non fosse palesemente autocontraddittoria quindi una situazione piuttosto curiosa e cioè nonostante lo si usava poi a metà secolo metà novecento l'oran schwarza ha inventato la teoria delle distribuzioni che in qualche modo ha anche spiegato cosa fosse la delta dato una definizione rigorosa e quindi diciamo ammessa in società per così dire ma questo non ha assolutamente chiuso la partita perché dopo 70 anni che la teoria delle distribuzioni esiste questa non possiamo dire che sia entrata a far parte del del background realmente condiviso da ogni laureato in ingegneria o in fisica e questo naturalmente lascia un segno anche nell'esposizione nella didattica nella divulgazione per cui si trovano su testi universitari disegni narrazioni frasi esplicative sulla delta di Dirac che sembrano presi da un testo di cent'anni fa quindi appunto una situazione curiosa e secondo me qualcosa che merita di essere raccontato avvertenza tecnica io ho tarato questo seminario pensando a studenti del primo anno che abbiano fatto analisi 1 per così dire quindi quando andrò a toccare o sfiorare argomenti di matematica o fisica che invece sarebbero ben più avanzati starò necessariamente molto nel vago di questo mi scuso con chi tra i presenti ne sa molto di più magari avrebbe voluto più dettagli ma è chiaro che in un seminario divulgativo bisogna anche fare dei compromessi sto preparando una versione scritta una estesa di questo seminario in cui metterò un po' di dettagli e chi è interessato poi la potrà me la potrà chiedere la potrà avere allora il piano di questa chiacchierata è vorrei iniziare per chi proprio non avesse mai sentito nominare la delta di Dirac raccontandola in poche parole come la si racconta di solito alla buona per così dire per dare una prima idea poi la parte centrale della chiacchierata sarà di tipo storico e poi la mia ambizione è nell'ultima parte del del seminario dire come la teoria delle distribuzioni definisce la delta quindi come dire nella mia ambizione se tutto va bene oggi tutti tornano a casa avendo un'idea più precisa di che cosa effettivamente è la delta e poi concludo con qualche osservazione allora un primo sguardo alla funzione delta potremmo dire con uno slogan che la delta vorrebbe essere la funzione densità del punto materiale vediamo di spiegarci un po' di più se noi consideriamo delle masse distribuite su una retta di solito nella fisica elementare si distingue bene tra i due schemi punto materiale di massa m oppure per esempio una sbarra quindi massa distribuita che può essere omogenea o non omogenea se io ho una sbarra omogenea posso introdurre la densità che è un numero semplicemente il rapporto tra massa e lunghezza se la sbarra è invece non omogenea la densità diventa una funzione come sappiamo la funzione rho di x maggiore o uguale a zero e a quel punto a restituirci la massa è l'integrale della densità quindi se io faccio l'integrale tra a e b di questa bella curva campana che vorrebbe rappresentare la densità di una sbarra non omogenea più concentrata vicino all'origine ecco quell'integrale tra a e b mi dà la massa contenuta in a b a questo punto si può tornare alla mia sbarra omogenea anche per una sbarra omogenea tutto sommato posso rappresentare la funzione densità e non solo il numero densità rappresentando questa funzione che vale massa fratto l nell'intervallino che la rappresenta e zero al di fuori adesso ci chiediamo se si può fare sintesi tra i due concetti di massa distribuita e punto materiale cosa potrebbe essere la densità del punto materiale e posso fare un procedimento di limite di solito si dice così per esempio una massa unitaria posta nell'origine potrei cercare di riottenerla facendo un limite di sbarrette omogenee tutte di massa 1 ma sempre più corte quindi io disegnerò delle funzioni densità che siano dei rettangolini così no tutti hanno area 1 perché la massa totale è 1 la base sempre più stretta perché la sbarretta è sempre più corta e l'altezza è sempre più alta invece più sempre più grande perché la densità sarà sempre maggiore e questo il limite di questi rettangolini idealmente darebbe la densità del punto materiale posso fare lo stesso con delle sbarre non omogenee quindi con delle curve a campana sempre più strette ecco che allora questo ipotetica densità del punto materiale dovrebbe soddisfare queste condizioni fuori dall'origine zero perché fuori dall'origine non c'è massa quindi la densità è nulla siccome la densità la massa totale fa 1 l'integrale della delta deve fare 1 e poi possiamo dire che in zero vale infinito ma non è tanto questa seconda proprietà il problema il problema è che la prima e la terza sono chiaramente incompatibili tra loro cioè se pensiamo all'integrale come l'area sotto il grafico di una curva è chiaro che se una funzione zero fuori dall'origine l'area sotto il grafico sarà l'area di un segmento o una semiretta verticale comunque anche una semiretta a area zero quindi la prima e la terza sono tra loro incompatibili e sono le proprietà definitorie di questa mitica densità del punto materiale quindi che è una sorta di cavallo a lato un oggetto impossibile ma naturalmente non ci fermiamo subito andiamo avanti coraggiosi e adesso dobbiamo ragionare su questa formula su questo integrale che è un protagonista del seguito del discorso adesso pensate a rho come alla densità ancora di una sbarretta non omogenea poi la faremo tendere alla delta e pensate ad f come una qualsiasi funzione continua qual è il significato di questo integrale beh caso più semplice rho la densità di ancora una sbarra omogenea di massa totale 1 allora in questo caso la funzione densità a questa espressione analitica è l'integrale della funzione per la densità è questo oggetto qui quello che in analisi 1 si chiama la media integrale della funzione f su un intervallino centrato nell'origine e se la funzione f continua quando l tende a 0 questo tende a f di 0 allora idealmente l'integrale di una funzione continua contro la delta che io la penso ottenuta come limite di densità di sbarrette omogenea o non omogenea dovrebbe dare il valore della funzione nello 0 e questa è un'altra identità importante nel seguito tanto improbabile è inverosimile quanto il concetto di densità di del punto materiale perché anche questo va capito subito insomma che qui a destra c'è un oggetto in qualche modo locale cioè questa quantità dipende dalla funzione f attraverso i valori che assume nell'origine e vabbè pensando che sia una funzione continua diciamo in un intorno piccolo quanto voglio dell'origine ma l'oggetto a sinistra se veramente fosse un integrale sarebbe un oggetto globale che dipende da f dappertutto o perlomeno in un intervallo di ampiezza positiva quindi questa è un'uguaglianza di nuovo inverosimile poi diciamo che se questa massa unitaria la spostiamo dall'origine in un punto is con 0 otteniamo quest'altra identità gemella della precedente ecco questa è esattamente la forma con cui la delta ha fatto il suo ingresso in società storicamente e quindi diciamo chi ha inventato questo mostro veniamo quindi alla diciamo al discorso storico ma probabilmente il primo a parlarne è Cauchy ancora nel 1815 lui scrive un trattatone importante sulla propagazione delle onde che poi sarà pubblicato nel 1827 e qui in questo lungo testo nella nota 18 alla fine del testo c'è un'osservazione su certi integrali singolari li chiama chi suona così questa è l'affermazione che scrive Cauchy una funzione f si ottiene come integrale della stessa funzione contro questa curva qui che adesso spieghiamo un po' come è fatta quando i numeri epsilon e alfa sono numeri infinitamente piccoli questo è ciò che scrive il signor Cauchy allora prendiamo la funzione che compare qui delta alfa di y questa funzione è un oggetto ben noto è una funzione che in analisi oggi chiamiamo nucleo di Cauchy in probabilità distribuzione di Cauchy è una curva campana il suo integrale è 1 l'area è sempre 1 e più il parametro alfa è piccolo più la campana è stretta e appuntita bene Cauchy infila questo nucleo in questo integrale e dice che quando il numero alfa è infinitamente piccolo l'integrale mi restituisce f di x non fate troppo caso a questi estremi di integrazione qui potrei metterci anche r l'affermazione fondamentale che quando alfa è infinitamente piccolo si ottiene questo questo è probabilmente il primo a parire quindi 1815 notate che il testo è un testo di fisica matematica ma il passaggio in cui compare è puramente matematico cioè qui non c'è un significato fisico particolare attribuito alla delta un discorso in qualche modo simile lo troviamo in Fourier pochi anni dopo nel suo trattatone fondamentale sulla teoria analitica del calore quelle in cui insomma vengono inventate le serie di Fourier qui però non entro non proietto la formula per non rischiare di dire cose poco comprensibili per qualcuno ma diciamo che anche in Fourier troviamo un utilizzo puramente matematico della delta pur all'interno di un'opera che ha un significato fisico ben preciso veniamo invece a degli utilizzi della delta nell'ottocento nella fisica matematica dell'ottocento dove la delta è dotata di un significato fisico ben preciso e qui veniamo a Green e il suo saggio sull'applicazione dell'analisi matematica alla teoria dell'elettricità del magnetismo 1828 Green si occupa di quello che potremmo chiamare il problema fondamentale dell'elettrostatica che possiamo descrivere così assegnata nello spazio una certa distribuzione di cariche elettriche rigorosamente ferme immobili elettrostatica stiamo facendo si vuole determinare il campo elettrostatico in ogni punto dello spazio o più precisamente la funzione potenziale elettrostatica allora consideriamo il caso base in cui la carica sia distribuita secondo una densità di volume quindi distribuzione tridimensionale nello spazio non su fili su superfici allora Green mostra che il potenziale che l'incognita del problema risolve un'equazione differenziale ben nota l'equazione di Poisson dove f è la densità di carica quindi u è l'incognita f il dato è la densità di carica una densità continua a questo punto l'osservazione chiave che fa Green è che per calcolare il potenziale U relativa ad una densità di carica continua a qualsiasi è sufficiente saper risolvere un problema molto più idealizzato e semplice è sufficiente conoscere il potenziale gamma che è generata dalla carica puntiforme concentrata per esempio nell'origine questa funzione gamma la possiamo chiamare soluzione fondamentale e lui mostra che se tu conosci gamma poi con un semplice integrale partire da gamma e da f riesce a calcolarti la U ma chi è questo gamma? se è il potenziale relativo alla carica concentrata nell'origine vuol dire che formalmente è la soluzione di un'equazione LU uguale delta con delta la funzione misteriosa di cui abbiamo parlato prima ma d'altro canto questo gamma è una funzione ben nota cioè il potenziale della carica di una carica puntiforme è un funzione molto semplice ben nota costante fratto la distanza dall'origine quindi vediamo che in questi lavori perché green non è solo nell'ottocento usare la delta in questo modo la delta entra in un modo un po nascosto alla chetichella cioè la delta è il termine noto misterioso di un'equazione di cui la soluzione non ha niente di misterioso e la conosciamo già quindi rimane un po sullo sfondo a dare un significato intuitivo a questa gamma ma i conti veramente si fanno con la gamma non con la delta e questo semplifica le cose insomma non pone troppi problemi matematici andiamo avanti e veniamo un altro personaggio importante di questa storia che è l'ingegner heavyside personaggio dunque ingegnere dei telegrafi dei telefoni ha studiato a fondo l'elettromagnetismo entusiasta della della teoria di maxwell che insomma era dei suoi giorni per così dire ha dato contributi importanti studiato la teoria dei circuiti negli anni 1890 ha inventato una teoria con questo paper del 1893 che viene chiamato calcolo simbolico o calcolo operazionale un modo un po formale per risolvere oggi diremmo i circuiti elettrici per scrivere la soluzione dell'equazione differenziale di un circuito elettrico senza risolvere realmente nessuna equazione differenziale un procedimento un po algebrico formale di cui lui non diede grande giustificazione per cui ci fu un certo attrito tra lui e diciamo l'establishment accademico e alle critiche lui rispondeva in modo molto secco con frasi di questo tipo dovrò forse rifiutare la mia cena perché non capisco appieno il processo della digestione no non se sono soddisfatto con risultato quindi una posizione molto pragmatica allora all'interno di questa teoria che già appunto non era esattamente rigorosa lui considera le correnti impulsive vediamo di spiegare lui dice supponiamo di avere in un circuito elettrico una variazione istantanea di carica allora lui introduce quella che oggi chiamiamo appunto la funzione gradino di evisite che vale 1 per t positivo e 0 per t negativo questo gradino moltiplicato per una costante q 0 rappresenta una carica elettrica che prima è 0 e da un certo istante è q 0 e lui si chiede quanto farà l'intensità di corrente in questa situazione beh l'intensità di corrente è la derivata di questa funzione quindi devo derivare il gradino ma chi è la derivata del gradino beh il gradino qui è costante quindi qui la derivata è 0 qui è costante quindi la derivata è 0 nell'origine la derivata non esiste vabbè pace fuori dall'origine questa derivata del gradino è 0 però andiamo avanti cosa rappresenta rappresenta la derivata della funzione carica quindi se io la integro in tutto in tutto r mi deve restituire no l'integrale della derivata è il salto della funzione quindi qui 0 ma dire questo significa affermare che l'integrale della derivata del gradino della funzione di evisite fa 1 allora cosa abbiamo trovato abbiamo trovato una funzione h primo lui nel suo linguaggio simbolico la chiamava ph vabbè col nostro linguaggio lo chiamiamo h primo che ha queste due proprietà fuori dall'origine è 0 il suo integrale vale 1 stiamo parlando della delta ma alla delta come già si conosceva evisite ha aggiunto un tassello importante una proprietà importante e cioè il fatto che sia la derivata della funzione a gradino e rappresenta fisicamente una corrente elettrica impulsiva cioè un impulso istantaneo di corrente capace di portare a un incremento misurabile della carica ok veniamo quindi a dirac perché si chiama la delta di dirac dirac il grande fisico premio nobel tra i pionieri della meccanica quantistica nel 1930 ha scritto un trattato fondamentale per i fisici principi della meccanica quantistica ed è questo che forse possiamo considerare se non l'atto di nascita l'atto di battesimo della delta perché insomma qui lui veramente per primo ne ha parlato in modo molto esplicito mettendo insieme un po' tutte le proprietà che erano state dette fino a quel momento nel paragrafo 15 del suo libro troviamo questo discorso titolo del paragrafo la funzione delta e poi dice introduciamo una quantità delta di x che dipende da un parametro x e che soddisfa queste condizioni le solite due condizioni definitorie della delta poi fa un discorsino per farsi un'immagine della delta insomma va bene i soliti discorsi con la campana sempre più stretta eccetera e poi va avanti dicendo delta non è una funzione di x secondo la solita definizione matematica di una funzione ma qualcosa di più generale che chiameremo funzione impropria quindi notate no titolo del paragrafo la funzione delta dopo tre righe è diventata una quantità delta e dopo un paragrafo delta non è una funzione ok e poi lui dice il suo uso deve essere confinata a certi semplici tipi di espressione per cui è ovvio che nessuna inconsistenza nessuna contraddizione può sorgere e insomma ci vuole un bel fegato ad essere convinti che nessuna contraddizione possa sorgere da queste pretese perché vediamo nelle pagine successive del libro quali sono le pretese che lui mette in fila vabbè queste le abbiamo già ricordate in qualche modo sono la definizione poi scrive questa formula che è quella che trovavamo già in Cauchy cioè in Fourier poi scrive questa che è quella che troviamo in Eviside poi ne scrive delle altre la delta è pari se la moltiplico per x fa zero eccetera la formula della convoluzione fino ad arrivare a questa meravigliosa identità la derivata del logaritmo è 1 su x meno i pi greco per la delta ecco queste sono le cose che lui scrive di cui avrà bisogno ecco naturalmente uno si chiede perché dirà che aveva bisogno della delta qui però mi mi scuso ma diciamo devo veramente un po scivolare via perché il discorso si farebbe difficile vi dico che un'analisi critica molto lucida di questo si trova nel trattato di von Neumann del 32 nell'introduzione di questo trattato che si intitola i fondamenti matematici della meccanica quantistica in cui von Neumann darà poi il fondamento rigoroso della meccanica quantistica da un punto di vista matematico sulla teoria degli spazi di Hilbert lì lui nell'introduzione fa proprio un'analisi del lavoro di Dirac di perché e come Dirac usa la delta io vabbè butto lì qualche slogan molto veloce per non lasciare totalmente sguarnita questa domanda diciamo allora il contesto è quello della nascita della meccanica quantistica anni 1925 26 sul tappeto ci sono in quel momento due teorie distinte uno la meccanica delle matrici di Heisenberg che usa una matematica del discreto diciamo e la seconda è la meccanica ondulatoria di Schrodinger che usa una matematica del continuo Dirac vorrebbe fare sintesi ottenere la teoria nel continuo come limite per la discretizzazione della matematica del discreto in questo processo di limite lui ottiene come operatori della meccanica ondulatoria degli operatori di tipo integrale questi tipi di operatori che sono agiscono sulle funzioni F globalmente ma lui avrebbe bisogno Dirac che questi oggetti potessero rappresentare anche l'operatore di Schrodinger che è un operatore differenziale che quindi è un oggetto locale globale uguale locale di nuovo un'uguaglianza impossibile come riesce a aggirare il problema permettendo questo nucleo integrale k di essere una delta o addirittura derivate di funzioni delta e finalmente veniamo a Laurent Schwarz Laurent Schwarz matematico famoso francese che nel 1950 ha vinto la medaglia Fields che come sapete è la massima honorificenza che un matematico può ricevere per la creazione della teoria delle distribuzioni il primo suo articolo su questo argomento è del 45 e il titolo di questo lavoro è veramente un manifesto nel nel titolo di questo paper del 45 c'è già tutto generalizzazione della nozione di funzione di derivata di trasformata di Fourier e applicazioni matematiche e fisiche come dire il manifesto di di una vita di lavoro in un certo senso poi cinque anni dopo esce la prima edizione del suo testo il suo libro teoria delle distribuzioni che poi avrà varie edizioni allora naturalmente non ho assolutamente adesso la pretesa di dire quali siano le motivazioni della teoria delle distribuzioni nel suo complesso non è che voglio suggerire che la teoria delle distribuzioni venga inventata per dar senso alla delta perché sarebbe riduttivo ma la delta era molto in cima ai pensieri di schwarz perché leggiamo un po le prime frasi dell'introduzione del libro di schwarz lui inizia il suo libro con queste parole sono più di 50 anni che l'ingegnere viseide ha introdotto le sue regole di calcolo simbolico in una memoria udace in cui calcoli matematici molto poco giustificati sono utilizzati per la soluzione di problemi fisici questo calcolo simbolico operazionale non cessa di essere sviluppato gli ingegneri lo utilizzano sistematicamente ognuno con la sua concezione personale con la coscienza più o meno tranquilla è divenuta una tecnica che non è rigorosa ma funziona bene dopo l'introduzione da parte di dirac della famosa funzione delta sarebbe 0 x diverso da 0 infinita in 0 in modo tale da avere integrale 1 le formule del calcolo simbolico sono divenute ancor più inaccettabili per il rigore dei matematici scrivere che la funzione di viseide ha per derivata la delta di dirac la cui definizione stessa è matematicamente contraddittoria e parlare delle derivate delta primo delta secondo di questa funzione privata di esistenza reale significa oltrepassare i limiti che ci sono concessi questo è quello che scrive schwarz e quindi vedete anche se certamente sarebbe riduttivo dire che lui aveva inventato la teoria delle distribuzioni per risolvere il problema della delta però non era neanche in fondo i suoi pensieri si è iniziato il suo testo con queste parole bene allora che cosa c'è nella teoria delle distribuzioni c'è veramente come dicevo prima un nuovo concetto di funzione un allargamento una generalizzazione del concetto di funzione di derivate di altre cose e io in questo in ultimo quarto d'ora vorrei tentare questa questa sfida cioè dare l'idea appunto di che cosa dice la teoria delle distribuzioni attorno a cosa sia una funzione e quindi in particolare che cos'è la delta per far questo seguo il filo ancora un po storico di vedere come si è evoluto nel tempo il concetto di funzione cos'è una funzione allora 1700 newton e poi aulero cosa pensavano sulle funzioni ma si potrebbe dire con una battuta si pensava che una funzione fosse ciò che oggi pensa uno studente di liceo o una matricola cioè che una funzione sia un'espressione analitica esplicita costruita a partire dalle funzioni elementari una funzione è una scatola che ha un ingresso che è un numero è un'uscita che è un altro numero ma quello che mi preme sottolineare è che nella visione del 700 di funzione questa scatola è perfettamente trasparente noi pretendiamo di avere un'idea ben chiara del tipo di ingranaggi ammissibili all'interno della scatola sono le funzioni elementari questo è un po quello che pensavano i pionieri del calcolo poi nell'ottocento di solito si attribuisce a Dirichlet il merito della definizione di funzione che ancora oggi troviamo sui libri di analisi 1 per cui ad esempio una funzione reale di variabile reale è una legge che ad ogni numero reale associa uno e un solo numero reale cosa è cambiato che Dirichlet ha dipinto di nero la scatola per così dire cioè la funzione è ancora una scatola con un ingresso che è un numero è un'uscita che è un altro numero la chiamerò scatola scatola 1.0 questa scatola che ha per ingresso un numero per un'uscita un numero però è stata dipinta di nero gli ingranaggi all'interno possono essere qualsiasi cosa non necessariamente le funzioni elementari ad esempio io posso dire Dirichlet diceva sia f di x la funzione che vale 1 se x è razionale 0 se x è irrazionale è una legge ben precisa però non è una composizione di funzioni elementari allora questa definizione è ufficialmente ancora in vigore noi matematici non l'abbiamo mai ripudiata però in fondo è dagli inizi del 1900 che ci sta un po' stretta vediamo di spiegare perché agli inizi del novecento Carrile Beg crea la teoria moderna della misura dell'integrazione che ha veramente rivoluzionato l'analisi matematica in un certo senso l'integrale è diventato il vero protagonista dell'analisi e e questo rimette un po' in discussione il concetto di funzione perché vedete se io se una funzione compare all'interno di un integrale non è più così cruciale sapere esattamente quanto vale in ogni singolo punto se io prendo questa funzione adesso la alteri in questi tre puntini qui crocettati e dico che qui vale questo pallino qui quest'altro e qui quest'altro cioè ho alterato i valori della funzione in tre punti non cambia l'integrale della funzione né su tutto l'intervallo né su alcun sottointervallo che io possa scegliere queste due funzioni dal punto di vista della teoria dell'integrazione sono indistinguibili noi le identifichiamo allora la teoria di Lebeg ha introdotto il concetto di funzioni uguali tra loro quasi ovunque che adesso mi guardo bene dal definire ma possiamo tenere quest'idea intuitiva se due funzioni sono uguali fatto salvo un numero finito di punti certamente sono uguali quasi ovunque potrebbero essere diversi inizi molto più grandi ma lasciamo stare e noi identificheremo due funzioni quando queste due funzioni sono uguali quasi ovunque questo è un primo cambio di mentalità con gli inizi del novecento e dire che è un po' si rivolta nella tomba questo no perché adesso non sei più sicuro non puoi più scommettere sul valore di f in nessun punto specifico solo dei suoi integrali in ogni intervallo allora approfondiamo questa idea per arrivare a dare un'altra definizione di funzione perlomeno rappresentazione di funzione secondo quella che chiamerò la scatola 2.0 cioè per dare un ruolo ancora più importante al concetto di integrale noi adesso diciamo così siccome abbiamo capito che se altera una funzione in pochi punti il valore dell'integrale non cambia d'altro canto l'integrale di f non basta a descrivere la funzione allora chiediamoci un'altra cosa invece di chiedere quanto fa la funzione f nel punto x o quanto fa il suo integrale ci chiediamo quanto fa l'integrale della funzione f che voglio descrivere contro per moltiplicata per una qualsiasi funzione fi di un certo insieme di funzioni di prova di funzioni test che fra un attimo preciserò un po' di più in altre parole appunto cambiamo la domanda da fare alla funzione non le chiediamo più quanto vali tu in x ma gli chiediamo quanto vale il tuo integrale contro fi e fi può essere qualunque funzione qualunque di che tipo minimo di precisazione allora la funzione f che voglio descrivere sarà una funzione continua o discontinua ma perlomeno integrabili su ogni intervallo limitato e invece le funzioni test sono questo insieme qui noi chiamiamo funzioni test in r lo spazio lo chiamiamo d di r insieme di tutte le funzioni regolarissime derivabili infinite volte quindi più regolare non si può e che si annullano fuori da un intervallo limitato ogni funzione può avere il suo intervallo limitato fuori dal quale zero non tutte zero fuori dello stesso intervallo questo sono le funzioni test e allora noi adesso prendiamo la funzione f che vorremmo descrivere e ne diamo una rappresentazione alternativa mediante quello che si chiama un funzionale cioè una legge che ad ogni fi funzione test associa questo numerino l'integrale di f contro la fi eccola la scatola 2.0 abbiamo cambiato le specifiche di fabbrica l'ingresso non è più un numero l'ingresso adesso è una funzione test quindi in ingresso potete inserire una funzione test in uscita avete sempre un numero ok la scatola è perfettamente trasparente all'interno della scatola agisce sempre lo stesso ingranaggio sempre la stessa macchina la funzione prende fi calcola l'integrale di f per fi e restituisce il valore di questo integrale ok questo è un altro modo di rappresentare le funzioni abbiamo cambiato la domanda che facciamo e è un modo più aderente a la teoria dell'integrazione perché se cambio f in pochi punti l'integrale non cambia quindi adesso questa scatola 2.0 individuo univocamente una funzione e tutte quelle uguali a lei quasi ovunque si può dire che sia una rappresentazione fedele questa scatola questo funzionale delle funzioni pensate definite a meno di uguaglianza quasi ovunque siamo pronti per il salto fondamentale di mentalità quello che farà schwarz che è semplicemente dipingere di nero la scatola 2.0 cioè adesso noi definiamo le distribuzioni come una distribuzione su r è qualsiasi legge qualsiasi funzionale definito sull'insieme delle funzioni test quindi qualsiasi legge che ad ogni fi test associ un numero e poi d'accordo si fanno due richieste tecniche questo funzionale deve essere lineare e continuo va bene bisognerebbe spiegare queste due cose cosa che in questo seminario non faccio però per chi non conosce l'argomento tranquilli per così dire queste sono cose che in dieci minuti uno se le studia non è lì lo scoglio della teoria diciamo il punto da capire è questo salto di mentalità il punto è che la scatola è diventata nera cioè che io non pretendo di sapere che qui dentro si calcoli un integrale anzi a volte lo si farà a volte non lo si farà per esempio io posso considerare il funzionale che ad ogni funzione test fi associa fi primo nel punto 3 questo è un funzionale lineare continuo sullo spazio delle funzioni test è una distribuzione ma non si identifica con nessuna funzione oppure posso considerare quest'altro che casualmente chiamo delta e sarà esattamente la delta di dirac che prende fi e gli associa il numero fi di zero anche questo è un funzionale lineare continuo vedete cosa è successo la scatola 2.0 trasparente ok prende la fi e calcolava l'integrale di f contro fi per più di cent'anni si è pensato che la delta fosse questa macchina che integrata questa funzione che integrata contro fi mi restituiva fi di zero schwarz dice smettiamola di pensare che sia una funzione che integrata contro fi mi restituisce fi di zero accontentiamoci di dire che è una legge che a fi associa fi di zero senza calcolare nessun fi integrale però se invece io considero una vecchia funzione in carne ed ossa come e alla x il gradino di evisaido quello che volete voi quella funzione lì è una particolare distribuzione perché io posso prendere quella funzione f e costruirmi una distribuzione che agisce in questo vecchio modo ok allora questioni di linguaggio il valore che ti associa fi lo si scrive ti croce alla francese con fi ok e quindi non integrale della t contro fi la t non è definita in x e quindi non si può dire t di x la t è un oggetto globale che a fi associa un numero per cui ad esempio scriveremo che delta croce fi fa fi di zero e non scriveremo questo diciamo che è un oggetto globale che a fi associa un numero per cui ad esempio scriveremo che delta croce fi fa fi di zero e non scriveremo questo che dopo il 1950 non bisognerebbe in base alla teoria delle distribuzioni scrivere mai più questo tipo di identità la delta non è una funzione che possa quindi essere messa dentro un integrale ma ripeto con le vecchie funzioni invece questo si può fare poi vabbè la teoria non si ferma qui naturalmente ad esempio si può definire il concetto di derivate di una distribuzione cosa che adesso non farò il bello è che qualunque distribuzione ha una derivata che è ancora una distribuzione e allora ad esempio prendiamo il gradino di Evisite è una funzione quindi è anche una distribuzione perciò è derivabile e la sua derivata in generale è una distribuzione non posso pretendere che sia una funzione e di fatti si dimostra nella teoria che la derivata del gradino è la delta tutte le funzioni sono diventate derivabili ma attenzione la derivata di una funzione non è detto che sia una funzione a volte lo è a volte è un oggetto più generale una distribuzione e poi posso derivare la delta e così ok quindi questo è quello che viene fatto bene sperando di essere riuscito insomma a comunicare un po' le idee centrali del di come la teoria delle distribuzioni ha esteso il concetto di funzione e ha chiarito cosa sia la delta voglio concludere con qualche osservazione così retrospettiva no? cioè cosa ci fa guadagnare realmente la teoria delle distribuzioni valeva la pena di fare questo percorso o tutto sommato ci potevamo accontentare delle campane strette alte eccetera che cosa è cambiato? allora Schwarz nell'introduzione che prima ho proiettato subito dopo quella paginata che ho letto in cui lui si scaglia prima contro Evisite e poi contro Dirac prosegue con questa frase quando una tale situazione contraddittoria si presenta è ben raro che non ne risulti una teoria matematica nuova che giustifichi in forma modificata il linguaggio dei fisici e sia essa stessa sorgente importante di progresso della matematica e della fisica allora anzitutto diciamo soprattutto diciamo chiaramente mi rivolgo in questo ai non matematici che in matematica nella matematica teorica la teoria delle distribuzioni ha consentito progressi importanti di risultati e direi più ancora di metodi di metodi dimostrativi per esempio nel settore dell'equazione alle derivate parziali nel settore dell'analisi di Fourier solo per nominarne due di cui so qualcosa diciamo ma sicuramente anche in tanti altri settori ha permesso metodi dimostrativi molto più trasparenti e che riescono ad essere rigorosi maneggiando oggetti che altrimenti sarebbero delle mine vaganti che non si sarebbero come prendere e voglio ricordare a questo proposito ai non matematici che insomma noi matematici teorici per campare dobbiamo produrre dimostrazioni dimostrazioni che per essere pubblicabili devono passare l'esame dei referi non è che possiamo dire che questo segue da quest'altro perché mi sembra perché l'ho verificato in qualche esempio quindi certamente per la matematica è stata una rivoluzione importante ma torniamo sul punto della fisica dell'ingegneria dell'applicazione perché occorreva una nuova teoria che giustifichi il linguaggio dei fisici qui voglio fare qualche osservazione appunto sul rapporto se vogliamo matematica fisica molto spesso gli utilizzatori della matematica dicono la matematica è uno strumento spero possiate immaginare che un matematico in questa frase ci sta un po' stretto io sinceramente preferisco dire che la matematica è un metodo di conoscenza la parola strumento mi fa venire in mente più il cacciavite e il martello che non la matematica o la conoscenza se proprio non potete fare a meno di usare la parola strumento dite strumento di conoscenza e qual è cosa qualifica insomma il metodo matematico da Euclida a questa parte la dimostrazione è il cuore della specificità di quel metodo di conoscenza che chiamiamo matematica che a partire da certi assunti già accettati ti dà delle nuove conclusioni e questo è anche veramente il contributo o se vogliamo il regalo che la matematica dà alla fisica Galilei ce l'aveva molto chiaro quando diceva che lo studio della natura si fonda su sensate esperienze e dimostrazioni matematiche queste sono secondo Galilei direi secondo la scienza moderna le due gambe su cui cammina il progresso scientifico in qualche modo e se vogliamo che la gamba matematica non sia zoppa una dimostrazione deve essere una dimostrazione che cosa succede quando noi addomestichiamo un'argomentazione matematica e che ci fidiamo del fatto che in fondo sappiamo già cosa aspettarci ma così facendo noi in qualche modo ci perdiamo il meglio che la matematica può dare cioè ci perdiamo la possibilità di poterci fidare a priori delle sue deduzioni delle sue conclusioni il fatto che se tu sei partito da una premessa fisicamente accettata e un'argomentazione matematica teorica ti porta a una conclusione quella dovrà essere vera in qualche modo se non hai sbagliato nulla e anche la possibilità a volte di essere stupiti da qualche conseguenza inaspettata ma ostinatamente vera che segue dalle premesse quindi diciamo io credo che non solo dal punto di vista della matematica teorica ma dal punto di vista di un rapporto fecondo e costruttivo tra matematica e fisica tra matematica e applicazione se vogliamo che la matematica ci continui a dare nuova conoscenza dobbiamo usarla rispettando il suo metodo dimostrativo e allora per questo valeva la pena anche fare la fatica di estendere il concetto di funzione di ripensare così profondamente concetti vecchi di secoli e arrivare a quella nuova teoria che era la teoria delle distribuzioni bene, mi fermo qui vi ringrazio qualche riferimento essenziale grazie Marco per questo seminario abbiamo come al solito un po' di domande o questioni prego Domenico anche di controllare la chat prego come al solito ho qualche problema diciamo per fare domande per favore alzate la mano o scrivetelo in chat e vi abilito appunto per aprire il microfono e farla a voce la Matteo 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 Passoni ok vai Matteo dovresti accettare la richiesta di aprire il microfono grazie mille l'ho fatto grazie buongiorno a tutti ciao Marco ti ringrazio ciao l'interessante seminario anche a me ho cercato di esserci anche se c'erano i casini e le altre cose non voglio portarvi a tempo per altre domande quindi te la faccio subito in modo diretto anche se penso che sarebbe necessaria una premessa più ampia quando si insegna diciamo in un ambito ad esempio di fisica un argomento e ci sono di mezzo le distribuzioni praticamente sempre si è in mente la delta di Dirac però in realtà ce ne sono anche altri di esempi quindi la ricostruzione anche che hai fatto di diciamo distribuzioni che hanno un ruolo importante nello sviluppo della fisica hai fatto vedere bene prima fisica e ingegneria che predatano Dirac di decenni e decenni ci si riferisce sempre alla delta ad esempio a me viene in mente l'integrale in parte principale di Cushy che dal mio punto di vista penso che sia corretto considerare una distribuzione ok la formula di Plemeli che mette insieme per l'appunto parte principale delta di Dirac in fisica voglio dire in diversi argomenti è importante considerare anche questi aspetti hai menzionato Cushy quindi faccio solo una domanda diretta anche se poi magari in un altro contesto possiamo parlarne con più calma nella ricostruzione storica che hai fatto l'integrale in parte principale in qualche modo può aver svolto dei ruoli analogi anche dal punto di vista motivazionale per Schwarz oppure diciamo non è così semplice dal punto di vista storico fare un commento di questo tipo dunque allora io posso se vedete di nuovo le slide in questa ultima nei riferimenti che ho dato c'è un libro un librone della Springer di Lützen The Prehistory of the Theory of Distribution in cui risponde alla tua domanda in 300 pagine di roba io sono andato naturalmente sulla delta diciamo che probabilmente le motivazioni che soggettivamente per Schwarz intorno alla metà del novecento erano più pressanti erano quelle che venivano di cui io non ho parlato nulla perché non c'entrano direttamente con la delta ma per esempio nel 1935 Sobolev introduce gli spazi di Sobolev il concetto di derivata debole il concetto di soluzione debole di un'equazione differenziale quindi c'è questa che secondo me è un bellissimo esempio di dialogo tra matematica e fisica perché la definizione di soluzione debole in qualche modo valorizza dal punto di vista matematico teorico i tipi di passaggi che si fanno in fisica ma matematica quando si vuole da considerazioni fisiche dedurre il modello e arrivare all'equazione di solito si parte con cose integrali e poi dopo un po' si arriva a quelle differenziali e l'idea è no beh ma fermiamoci a quelle integrali che a volte sono loro quelle che hanno senso e quindi io credo che in Schwarz il maggior filone motivazionale a parte quelli che ho nominato sia più tutto quel settore lì che era molto fresco dei decenni immediatamente precedenti poi certo si può parlare di varie altre cose però se volessi stringere all'osso credo che un po' diciamo oltre alla delta e queste questioni impulsive eccetera e di racca insomma che non era cioè che era ben sotto i riflettori poi l'altro filone sia quello che ho accennato adesso però se dai una sfogliata almeno all'indice di quel librone lì di Lützen puoi avere spunti ben più dettagliati di risposta grazie Matteo ci sono altre domande? in chat diciamo non ci sono domande rispetto ai puntuali c'era un commento di Maurizio Codogno io penso prima quando parlava di hai parlato di Dirac un piccolo commento sul fatto che fosse un fisico e quindi andavo un tanto al chilo e senza penso fosse quello in tutto e la registrazione c'è una domanda sulla registrazione che sarà disponibile sempre dal dal sito FDS trovate tutto e c'è un commento di Gabriela se premessa concentrata prego se vuoi intervenire esatto se allora ti ho fatto la richiesta per aprire il microfono Gabriela sì buongiorno una bellissima presentazione anche per una che è lontanissima da anni io ho una solo microscopica osservazione sulla massa concentrata che apriva questa interessantissima presentazione quando io lo racconto ai miei studenti di scienza delle costruzioni per me il punto materiale è un oggetto le cui dimensioni non hanno importanza ai fini dell'effetto delle forze che sono applicate su di esse quindi è vero che poi sto in scienza delle costruzioni quindi un mondo statico senza massa io non diciamo forse errando non mi preoccupo troppo del fatto che la massa sia messa in un punto e basta d'altronde quando facciamo tutti i nostri modelli elementi finiti delle strutture anche lì noi mettiamo masse concentrate quindi mettiamo in un unico punto ma certo difatti non c'è assolutamente no però devi concludere no dico non c'è assolutamente niente di male nello studiare masse concentrate i problemi nascono nel momento in cui uno vuole rappresentare sotto lo stesso cappello teorico lo stesso schema teorico distribuzioni continue come appunto una sbarra omogenea o non e punto materiale quando io ho bisogno e se ne ha bisogno perché per esempio il lavoro di Green è evidente per risolvere la placciano di u uguale f con f funzione continua mi serve la placciano di u uguale delta perché da un punto di vista fisico per trovare il potenziale elettrostatico per una distribuzione continua di carica è utile conoscere il potenziale per una carica concentrata la delta nasce qui quando qualche cosa ci suggerisce ci chiede di mettere insieme il discreto e il continuo sotto lo stesso tetto e allora abbiamo bisogno del concetto di densità del punto materiale e lì nascono i problemi ok e l'altra e l'altra e l'altro punto di crash è oggetto locale oggetto globale di cui prima dicevo c'era una domanda nella chat qualche suggerimento per un testo introduttivo didattico sulla teoria delle distribuzioni ma allora io in questi riferimenti ne ho citato beh allora ci sono teorie delle distribuzioni qui al Politecnico si insegnano in diversi corsi del terzo anno e ognuno di questi corsi e relativi testi può essere naturalmente un riferimento per una introduzione alla teoria delle distribuzioni un testo che io personalmente ho apprezzato molto che invece è un testo molto più serio più approfondito un intero testo sulla teoria delle distribuzioni è questo qui questo qui Birkhoiser perché questo è un aspetto di cui io non ho non ho parlato nel seminario per motivi di tempo ma insomma la teoria originale di Schwarz dal punto di vista dei non matematici aveva oggettivamente una pecca faceva uso di un linguaggio abbastanza astratto della topologia degli spazi vettoriali topologici che oggettivamente non si può pretendere che sia un background molto posseduto al di fuori della cerchia dei matematici ora questo corrispondeva ai suoi gusti personali al fatto che lui appartenesse alla scuola burbachista ai decenni nei quali è vissuto ma non è così indistinguibile dalla teoria delle distribuzioni questo è un questo testo è ma non voglio dire che sia l'unico però io ho conosciuto quello mi è piaciuto un buon esempio di testo in cui si dimostra tutto rigorosamente senza senza anche cose abbastanza profonde senza compromessi ma con un investimento di astrazione veramente minimo e quindi molto più usabile anche al di fuori della cerchia dei matematici ripeto magari ce ne sono decine ma insomma io ne segnalo uno ok Maurizio Codogno voleva fare una domanda credo voleva intervenire volevo semplicemente appunto dire che la mia battuta sul dirà che era un fisico in realtà aveva già avuto risposta poi alla fine dell'intervento di Marco perché appunto i fisici cominciano a tirare fuori le cose e poi i matematici si si arrabattano scusate la gola e riescono appunto a trovare un modo per farle funzionare davvero tutto qua ok Matteo ribatte che era un informazione era un ingegnero eviterei di fare adesso un dibattito matematica fisica ingegneria visto che siamo tutti un politecnico e condividiamo il spirito va bene c'è un ringraziamento da parte di Lelio Luzzi niente non vedo altre domande va bene allora possiamo dare appuntamento di alla prossima settimana forse forse Sandro voleva intervenire Sandro sì ti ho mandato una richiesta ah scusa 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 volevo solo sottolineare che il povero Eviside era stato espulso per indegnità teorica dalla Royal Society sì sì di fatto per le ardite operazioni del suo calcolo funzionale questo è uno dei soliti errori che fa establishment nei confronti sia di Fourier ma anche il povero Fourier ha avuto la sua eronia ecco non volevo solo sottolineare sì sì interessante che esistesse il concetto di indegnità teorica esatto sì 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 è stato Dirac poi che l'ha rivalutato volevo solo sottolineare questa cosa grazie scusa Giulio volevo ringraziare anch'io tantissimo Marco perché benissimo terminare grazie grazie quindi con Anna vediamo ma giusto qui abbiamo l'anniversario dantesco lo celebriamo con un amico carissimo del nostro dipartimento che è Fabio Peri direttore del scientifico del Prendeo di Milano quindi vi aspettiamo la settimana prossima grazie grazie buongiorno a tutti grazie